Sì, sono veramente bello. Ci sono due morti e tre feriti. I giovani stavano orientando da una serata discoteca quando... Sì, sono veramente bello. 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 Bello scherzo. Bello scherzo lo c'era Vrolese. C'era che? Seguili in questo modo. Stai fresco chi va in discoteca con te stasera. Dai. Dai. Dai, passati. Dai, passati. un po' vabbè mi sono agitato ok che si fa così per dire e poi tu non devi neanche guidare cosa c'entra cosa vuoi che ti faccia un tiro quando si parte adesso è presto prima di mezzanotte non c'è mai nessuno e poi è meglio arrivare un po' dopo daniel e lui vuoi proprio l'ultimo tiro chi è quella ragazza laggiù non l'ho mai vista qui in giro ma non so oggetto non identificato uffa mica male chissà se viene anche lei in discoteca con noi no di sicuro ho promesso martina che le diamo uno strappo allora bene pronta per la grande nottata si si comunque stiamo solo andando in discoteca ancora arrabbiata con me pianta ma marina e marchina con te si l'ho promesso che oggi resto pulito se fare l'efficiente me ne torno a casa a piedi me ne torno ma se non ho preso proprio niente ciao erene ciao ciao allora ci vediamo giù in discoteca ho trovato uno strappo ah si da chi dei tipi un tipo che conosce una mia amica pseudo amica ma si insomma ci vediamo giù ciao ciao ah siete qui allora tutto che è per il passaggio non è che poi mi tirate il pacco ma no figurati anche se daniel voleva prendere un altro ma non ti posso cosa dici scusa te ne portate le altre due pita hai ordinato anche a me si non ti va no no va bene sei tu che le vado non io ma abbiamo un paio di birra il fatto è che tu ne hai già bevuto di più di un paio e siamo solo a niente serata ora ragazzi qui sono l'unica che era patente ok per cui va bene così sono ritrovato l'altro passaggio allora post ex roblez linea tex lo sai benissimo sullevo tutto dun fiata vare su da fuori e poi tu sei scemo comunque siete proprio dei rompi quanto storie fatte insomma per me è così ex roblez a 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 c a a a a a an a a che sei tu andy claudio stefan proprio non mi riconosce più e come faceva andy claudio martina ma di me non ti ricordi con chi sei qui con amici tu amici ah già andy claudio dai ti sei prescritto all'università si scienze forestali aha così farei il boscaiolo e tu sei sempre convinta di fare la cany candy infermiera no no penso che mi scrivo filosofia se prima non mi seguiamo dall'attualità se no come va diciamo che me la cavo grazie a tutti